ciao ragazzi continua il tour nello scoprire i giocatori accostati al milan nelle ultime ore si è parlato molto di questo esterno destro che tra poco scopriremo io personalmente non lo conosco sapete che amo essere sincero e trasparente con voi non voglio fare l'esperto di calcio quando non lo sono se qualcuno di voi dovesse conoscerlo meglio mi raccomando lasciate un commento e diteci a noi poveri ignoranti che giocatore perché come sempre ve lo ripeto fino alla nausea un conto è guardare un video su youtube che serve più per farci due risate un video chill come ho scoperto si dice un conto invece conoscerlo aver seguito le partite del via real in questo caso perché parliamo delle serie del via real che si chiama come samuel ciucu samuel ciucu e e sa samuel sicuro ciucu e e ok chiaro a tutti benissimo più facile pronunciare aluafi kaiomi tomori va bene e allora parliamo innanzitutto scherzi a parte di un classe 99 quindi un giocatore molto giovane un calciatore nigeriano attaccanto alla via real della nazionale nigeriana nell'estate del 2019 viene indicato dalla uefa come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 19 20 poi vediamo le caratteristiche tecniche gioca come alla destra e mancino di piede quindi gioca a zone invertite per come c'è scritto qui rientrare poi provare il tiro e soprannominato ocio il roben nigeriano queste cose poi fanno impazzire tipo quando c'è non so un giocatore cinese fortissimo il messi cinese in questo caso è il roben nigeriano vabbè un po come il sottoscritto che è stato sempre soprannominato il girusalentino ma questo è un altro discorso va bene vediamo un po di statistiche ragazzi gioca al via real appunto al 18 19 in campionato come vedete numeri comunque interessanti 26 partite 5 gol 37 partite 3 gol 28 4 27 3 29 6 nell'ultima stagione si è messo molto più in mostra soprattutto considerando che nella coppa del re ha fatto 4 gol e 4 in 4 partite e in conference league 9 partite 3 gol quindi in totale ha fatto nell'ultima stagione 42 partite 13 gol numeri sicuramente molto molto interessante da quello che mi hanno detto è anche un ottimo assist man vediamo a sto punto la sua pagina transfer market per scoprirla ancora innanzitutto lo guardiamo in faccia eccolo qua guardate che bel ragazzo look curatissimo vale 20 milioni così c'è scritto su transfer market più o meno è abbastanza attendibile come dico sempre rumor di mercato ragazzi milan real madrid interessati con il milan in vantaggio ci tengo a precisare che queste percentuali sono stabilite dagli utenti transfer market quindi è una percentuale che lascia il tempo che trova può giocare a destra e a sinistra anche se il suo ruolo naturale quello a destra può giocare anche sulla tre quarti età 24 anni altezza 1,72 appartiene appunto al via real nessun'altra novità nessun altro indizio in particolare il suo valore più alto sin ad ora è stato di 30 milioni ma adesso vale comunque 20 milioni ok io direi di andare a questo punto direttamente a vedere qualcosina prego regia grazie come sempre si parte dalle esultanze bene esulta e questa è una cosa interessante vediamo cosa succede esulta lui esulta se esulte mi ricorda leao con questa esultanza ok qui punta l'avversario ne ha due con un gioco di gambe riesce ad andarsene qui punta l'avversario e lo supera e se la fascia ottimo dribbling direi sin ad ora il sombrero addirittura qui rientra sul sinistro bellissimo ragazzi sto gasando tantissimo sarà pure un video su youtube ma mi gaso tantissimo anche qui super ragazzi gran dribbling questo è un dato di fatto gran dribbling video di youtube non video di youtube il dribbling insomma o ce l'hai o non ce l'hai qui addirittura una gran giocata che io non saprei fare neanche per sbaglio qui sbaglia l'appoggio per l'avversario il video è tagliato ma si vede che ha sbagliato l'appoggio ragazzi salta l'uomo salta l'uomo non è un dettaglio trascurabile qui vediamo cosa fa rientra in mezzo a due allarga molto bravo qui cerca di andare ragazzi sta roba qua se la fa messias si sloga la caviglia facile anche qui se ne va tranquillamente qui rientra sul destro la metta al centro si vede che il destro non è prettamente il suo piede sarei curioso di sapere quanti assist fa perché se un che bello bellissimo questo bellissimo ragazzi mi sto gasando forse mi sto gasando solo io ma quando vedo un giocatore così abile che riesce a dribblare qui la mette dentro come con la terza gamba non male non male qui il tacco utile poi poi il tap in vincente in porta bel gol bel gol freddo qui dribbling ubriacante palo gol o palo fuori non lo sapremo mai forse vediamo adesso da qui si vede ti prego regia no palo gol palo gol e ragazzi un giocatore così no che gol questo ragazzi questo è un gol alla asensio è un giocatore così su quel lato lì che sia lui o chi per lui sia chiaro magari non arriva purtroppo mi viene da dire purtroppo da quel che ho visto è ovvio che ti svolta ti svolta l'attacco ti svolta l'attacco perché ti rende il gioco d'attacco meno prevedibile perché ora come ora alla sulla destra facciamo il solletico sappiamo che per fare male bisogna andare dalle hao sempre solo dalle hao invece così facendo avendo un giocatore dinamico veloce come lui che che bravo a segnare bravo a fare assist guardate che bravo ragazzi guardate quanto è bravo ad andarsene guardate come fluido nei movimenti è ovvio che ti dà più imprevedibilità e anche lato le hao si sente meno quella responsabilità di dover per forza far male lui cioè dai anche più possibilità le hao se vogliamo di di riposarsi durante la partita perché ora come ora soprattutto negli ultimi tempi e qui si è bloccato il video non so perché ok il gioco del milan era sponda di girù per le hao e facciamoci il segno della croce speriamo che con qualche strappo si inventi qualcosa invece avere un giocatore così pungente anche dall'altra parte sarebbe sarebbe tanta roba c'è poco da fare davvero tanta roba ma comunque non lo conosciamo minimamente mi sta piacendo tanto ora bisogna anche capire il valore effettivo di mercato del via real che qual è nel senso magari ti sparano 40 milioni e tutto diventa più complicato certo per me a 20 milioni un giocatore così pur non conoscendolo da quel che vedo talmente veloce che si blocca il video ragazzi non so perché che si è sbloccato ovviamente ragazzi c'è da capire quanti soldi vuole dire innanzitutto c'è da capire se via real vuole privarsene o meno da quel che ho letto forse il via real sarebbe interessato ad un giocatore ancor più giovane della cantera del barcellona e quindi in quel caso potrebbe lasciar libero samuel però non lo so te lo lasciano andare via per 20 milioni sinceramente dubito in quel caso poi bisogna fare tutte le valutazioni del caso prima cosa importante come vi dico sempre qual è il budget trasferimenti del milan perché 20 milioni ad esempio io li spenderei se ne avessimo a disposizione 80 cazzo con 20 milioni mi prendo comunque un ottimo esterno con ampi margini di miglioramento e ci sta come valutazione se invece se invece come budget trasferimenti ai che cacchio ne so 40 milioni di certo non corre il rischio di spenderli praticamente tutti per un giocatore cosa che è successa ad esempio lo scorso anno con tecchetelare ora non ricordo esattamente il bottino del milan quale fosse però ne abbiamo spesi tanti per charles sperando che il prossimo anno possa fare meglio ma questo è un altro discorso tornando a lui ragazzi vi ripeto io non lo conoscevo e non posso dire neanche di conoscerlo adesso ovviamente però insomma il dribbling il cinismo sottoporta io lo vedo io lo vedo che nonostante sia un ragazzo così giovane non fa mai una roba banale è pungente veloce è anche lucido in alcune situazioni generoso non è il giocatore l'entoni di turno non è entoni quello che fa i collegamenti con me durante le reaction l'esterno dello united ad esempio forte fortissimo per carità però vedi anche tanta fuffa no? tanti dribbling un po' a casaccio mentre quel che vedo di Samuel è che non sono mai dribbling fine a se stessi non sono mai dribbling per i fotografi come si dice no? e sta roba qua sinceramente mi gasa sono curioso di leggere i commenti di chi lo conosce per bene sono davvero curioso perché ci sarà qualcuno di voi magari appassionato di più di liga non il cantante ovviamente ma il campionato spagnolo che magari dice Dani guarda forte però fa quelle giocatine lì e poi durante la partita si addormenta potrebbe anche essere potrebbe anche essere così oppure si fa una partita buona e tre noi quindi tu su youtube vedi tutti gli spezzoni una fianco all'altro e sembra più forte di quel che è potrebbe anche essere questo oppure Dani fortissimo ma sono uscito un sacco di notizie su di lui che ogni giorno litiga con un compagno diverso e anche questo è un altro discorso interessante insomma tante valutazioni che può darci solo chi lo conosce bene qualche certo ragazzi è che è impressionante il numero di dribbling che abbiamo visto in questo video poi anche molto molto veloce quindi una volta che riesce ad eludere l'intervento dell'avversario è anche rapido e difficilmente lo prendi e poi nonostante il fisico abbastanza esile rispetto magari ad altri calciatori e nonostante l'altezza diciamo non sia il suo forte mi sembra anche bello tozzo difficile da buttare giù cioè fisicamente vedo che vince anche tanti contrasti e questo è anche un altro aspetto che mi sta piacendo da quel poco che stiamo vedendo bello bello ragazzi bello finisce qui il video ragazzi finisce qui e ditemi cosa ne pensate sono curioso di leggere sia i commenti di chi non lo conosceva per sapere un po' le prime impressioni anche e soprattutto commenti di chi invece lo conosce bene consigliatemi anche altri nomi da sbirciare altri calciatori ovviamente associati al Milan raccostati al Milan da scoprire per adesso è tutto iscrivetevi ROAD tu 300.000 iscritti e alla prossima ciao